e allora a tutti raga benvenuti ai miei nuovi video sono il posto delle colli e oggi voglio parlare di questo evento che capiterà tra giorni la prossima settimana pochi giorni ovviamente ci sarà la super luna di sangue il nostro satellite lunare tinta di rosso sangue è un bello spettacolo chi lo vuole guardare all'alba può vedere si sveglia anche a occhio nudo a chi ha il binocchio meglio può vedere nel nostro satellite la nostra luna tinta di sangue perché sarà uno spettacolo imperdibile primo evento grandiose di gennaio 2019 la super luna di sangue le crisi che inizierà il 21 gennaio da un presagio dell'apocalisse che può succedere anche la fine del mondo per se troppo vuoi ecco perché perché l'evento più atteso di gennaio 2019 e senza alcun dubbio le crisi totali di luna che corrisponde anche al fenomeno della super luna di sangue in tinta rosso sangue l'eclisi lunare avverrà all'alba più precisamente dalle 5 41 sarebbe le 6 meno 20 fino alle 6 43 persone le 7 meno un quarto più o meno con il massimo delle 6 e 12 massimo a 6 10 mentre alle 23 delle 21 gennaio i satelliti terrestri si troverà al pericheo con il nostro pianeta ovvero dalla distanza più brava di questo motivo apparirà gigantesca questa questa luna apparirà gigantesca più grossa gigante normale quindi raga chi lo vuole portare quello spettacolo di super luna di sangue io mi sono già organizzato con gli amici miei andrò in collina e vedrò questa super luna andrò all'alba ovviamente guarderò e vedrò questa lusso per luna fatti occhio però a una cosa che il cielo sia sgombero dalle nuvole che non sia nuvoloso e che almeno potete vedere questo spottacolo questa meraviglia però deve essere sgombero di nuvole non deve essere nuvoloso non deve esserci la nebbia non ci deve essere niente il cielo pulito solo così potete vedere questo spettacolo grandioso meraviglioso io mi sono già preparato sperando che non ci sia qualche fenomeno che mi rovina atmosferico ovviamente che mi rovina la giornata la serata la mattinata che io voglio proprio vedere questa super luna di sangue cioè tinta rossa sangue che vendetevi con meraviglioso in conclusione raga chi lo può riportare mi raccomando ripeto l'orario precisamente alle 6 meno 20 dalle 6 meno 20 fino alle 7 meno un quarto con il massimo delle 6 e 10 di mattina quindi sveglia qui all'alba sperando che non ci sia qualche nuvola che può rovinare la visione di questa super luna mi raccomando quindi buona visita a tutti buona spettacolo a tutti perché la prossima evento di super luna di sangue sarà per due anni se fra due anni ci sarà di nuovo super luna di sangue quindi mi raccomando il 21 gennaio non perdete questo spettacolo perché è meraviglioso super luna di sangue perdibile va bene va il video è finito qua ditemi la vostra se lo vedrete o no se lo sapevate o no fatemi sapere le vostre opinioni e conclusioni nei commenti qua sotto come sempre tutti i link a descrizione l'info box facebook utilizzate la musica rilasciate un like mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto come sempre ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao e alla prossima ciao